Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin a questo nuovissimo video Oggi ho deciso di far sentire vecchio qualcuno, me compreso, attenzione Perché come dice giustamente un meme, quando parliamo di 10 anni fa Siamo consapevoli che non ci stiamo più riferendo agli anni 90 Ma bensì al 2013 Sì, il 2013 era 10 anni fa E quindi oggi voglio parlare dei titoli che sono usciti 10 anni fa Che compiono quindi 10 anni nel corso di questo 2023 Prima di iniziare come sempre vi chiedo solo di lasciare un like e un'iscrizione al canale Per voi un gesto completamente gratuito E per me invece il supporto più grande che mi possiate dare Ora vi lascio giusto il tempo della sigla per metabolizzare il fatto che ormai siamo tutti vecchissimi Dopodiché iniziamo a vedere quali titoli sono usciti 10 anni fa nel 2013 Tempo scaduto ragazzi, è ora di iniziare a vedere quali sono questi titoli che compiono 10 anni In questi titoli andremo a trovare delle serie che sono tuttora in corso Ci sono delle serie che sono già state ristampate E delle serie che sicuramente meritano una ristampa Ed è proprio da una di queste che vorrei partire E sto parlando dell'Uomo Tigre L'Uomo Tigre, pubblicazione mensile all'epoca A gennaio 2013 è stata l'uscita di questo numero, del volume numero 1 In un'edizione veramente orribile Se facciamo così potete vedere che ormai dopo 10 anni le pagine mi stanno rimanendo in mano Detto questo sono abbastanza convinto Dai, che se dovessero fare una nuova edizione, una perfect edition magari Non visto che tra l'altro l'autore è lo stesso di Rocky Jo Non sono l'unico ad andarlo a prendere Dai, ammettiamolo, ci sarà qualcun altro che mi farà compagnia Anche soltanto per completezza dell'autore Oppure per andare a recuperare in versione cartacea Uno di quei titoli con cui la maggior parte di quelli della mia generazione Siamo cresciuti insieme ad altri E qualcuno magari lo vedremo anche tra un po' Un altro titolo che è uscito nel 2013 Che ha avuto un'importanza pazzesca È senza ombre di dubbio Dororo di Osamu Tezuka È uscito nel 2013 in realtà la seconda edizione arrivata in Italia Quella di Goen Ne era già uscita una precedentemente nel 2000 in due volumi Ma non aveva avuto il successo che ha avuto Quella portata dalla casa editrice di facente parte di RV Edizioni L'importanza storica di Dororo oltre che del manga in sé È anche per tutto quello che ha dato ai manga che sono venuti dopo In tantissimi titoli successivamente hanno preso spunto dal Dororo di Osamu Tezuka Io ne ho due totalmente a caso e sono ad esempio Search and Destroy Cofanetto edito da J-Pop non molto tempo fa è uscito in tre volumi Ma anche, e qua era anche un pochettino più palese Dororo e Yakimaru edito da Planet Due titoli che hanno palesemente preso spunto dal titolo del Dio dei Manga E quindi anche questo titolo nell'edizione più commercializzata in Italia È giunto al suo decimo anniversario È stato ristampato successivamente anche un omnibus di Dororo Ed è uno dei titoli che ammetto mi manca in collezione Ma che sento quasi il dovere e l'obbligo di andare a recuperare E vorrei aggiungerlo al reparto di Osamu Tezuka che ho qua sotto Il prossimo titolo di cui dobbiamo andare a parlare In realtà è più famoso a livello animato rispetto a livello cartaceo Ma per il semplice fatto che è diventato praticamente introvabile Se non in usato Sto parlando della seconda serie in realtà di questo titolo Ovvero Fate Zero La guerra del Santo Graal precedente rispetto a Fate Stay Night Un titolo di cui ho sentito opinioni veramente contrastanti Per quanto mi riguarda l'ho apprezzato sia Fate sia Fate Zero Sono contento che non abbiano fatto migliaia di serie sempre su Fate a livello di manga Ma questo inserire personaggi storici, biblici all'interno di questi combattimenti Per il Santo Graal Per riuscire ad arrivare all'obiettivo di poter esplodire un desiderio Mi è piaciuto tantissimo I disegni sono comunque veramente molto gradevoli da guardare E quindi diciamo che alla fine della fiera A me è piaciuto Mi piace, l'ho letto con vivo interesse E con molto 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 piacere Per chi volesse leggere il manga E non soltanto fermarsi all'anime che magari avrete visto Spero che Planet annunci una ristampa O magari una nuova edizione Soprattutto per quanto riguarda Fate Perché per me se lo merita assolutamente Dopodiché sempre nel corso del mese di febbraio È uscito Yawara Sì ragazzi Yawara non ce l'ho È una delle pochissime cose di Urasawa che mi manca Ed è anche uno dei rimpianti maggiori che ho della mia collezione Quando uscì Yawara Io andavo in fumetteria E il titolare della fumetteria mi diceva Compralo, vedi che è di Urasawa È bello, è da leggere Provalo E io mi bloccai sul formato Essendo un pochettino più piccolo del classico Tankobon Ho detto no vabbè dai aspetto Magari più avanti fanno un'edizione un pochettino diverso Almeno grande quanto il Tankobon non uno male Sappiamo tutti come è andata a finire Ora la mia unica speranza È che annuncino a breve una nuova edizione O almeno una ristampa Sarei contento lo stesso Mi andrebbe bene lo stesso Mi basta andare a recuperare e leggere anche Yawara La mia speranza in realtà È che l'annuncino a breve Magari al Comicon di Napoli La butto là Perché questo mese si è conclusa una ristampa Una ristampa di un titolo che è uscito nel 2013 E sto parlando di Master Keaton Il primo numero e la prima edizione Uscì in Italia appunto dieci anni fa nel corso del 2013 Essendo che a gennaio si è conclusa la ristampa completa Dei 12 volumi di Master Keaton Chi lo sa che a breve magari potremo avere una ristampa Una nuova edizione di Yawara Che egoisticamente è il titolo che sto aspettando Per voi potrà inserire anche Epic E un altro titolo di Urasawa Che spero vivamente che venga ristampato Per darvi la possibilità di andare a leggerlo Un titolo che dopo nove anni di pubblicazione Si è concluso lo scorso anno È Jojoion Io ho soltanto il volume 27 Era uscito con delle cartoline in omaggio Sto aspettando per recuperarlo L'edizione nera Come tutte le altre serie che ho di Jojo A parte le prime tre che ho recuperato in Jojo Però un altro pezzo di storia Diciamo dell'universo di Jojo È iniziato ben dieci anni fa E sto parlando dell'ultima serie Jojoion Ora sta uscendo a breve l'ultima serie Dovrebbe essere almeno l'ultima serie Almeno in Jojo Altro titolo che è uscito dieci anni fa È Abbiamo la ristampa tutt'ora in corso Ichi the Killer Il mio è blisterato Perché mi era arrivato il numero uno fallato L'avevo comunque letto E poi l'ho sostituito E se vi ricordate era dato così Ichi the Killer Un manga veramente pazzesco Che sto leggendo adesso Con la ristampa che sta facendo Planet Una follia pura Un volume dopo volume C'è sempre forse più follia All'interno di questo titolo Ma che comunque mi sta piacendo molto Mi fa passare dal ridere Al deprimermi nel giro di poche pagine Però è una lettura che Se siete forti di stomaco Ve la potrei tranquillamente consigliare Perché è veramente 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 bello Poi passiamo a un'autrice Che è sicuramente tra le migliori di sempre Sto parlando di Ayazawa E nel 2013 usciva Ultimi raggi di luna Titolo che io ho recuperato nel corso del 2022 Sempre grazie a una ristampa fatta da Planet In questo formato cartonato Veramente piacevole da leggere Una bella storia Sicuramente non ai livelli di altre opere Della stessa autrice Nana su tutti Però comunque per soli due volumi È una lettura fattibile Senza grossi problemi L'unico problema in realtà È il prezzo Che è 18 euro a volume In questa nuova edizione In questa ristampa Che ha fatto Planet Dopodiché Ed è già più volte che mi sentite dire È avvenuta una ristampa Una nuova edizione Da poco Per i dieci anni E tutto quanto Un titolo che è uscito dieci anni fa Nell'edizione di Planet In quella Porcheria Permettetemi la parola Fatta da Edicola Tipo L'uomo tigre Che abbiamo visto prima È King il guerriero Lo so Non ce la fate più a sentirmelo dire Però potrebbe essere Un altro indizio Di dieci anni Per Dalla scorsa edizione Per annunciare Una nuova edizione Una ristampa Basta Non vi voglio stressare Più di tanto Sappiate che Quell'edizione di Ken Compie dieci anni Quest'anno Ma non solo quella Perché dieci anni fa Uscivano anche Chiamiamoli degli Spin off di Ken Degli approfondimenti Su altri personaggi Uno di questi è Rao Il conquistatore Del cielo Lo vediamo qua Erano cinque i volumi totali Erano uscite addirittura due edizioni Una con sovraccoperta Da 4,50 euro Una questa qua Con sovraccoperta Chiamata Deluxe A 6,50 euro Ma non è uscito solo questo È uscito sempre Dieci anni fa Anche Rae Lo scuro lupo blu Che in realtà Purtroppo È l'unico di questi Spin off Che mi manca E so che Devo fare penitenza Per questa cosa Perché sicuramente Un altro titolo Un altro approfondimento Su un personaggio Fantastico Dell'universo Di Okuto No Ken Che bisognerebbe Avere all'interno Nella propria collezione Prima ho nominato L'edizione nera di Jojo E mi sono dimenticato Che nel 2013 Usciva In contemporanea Alla Jojoion Anche Un'edizione nera Di Jojo E sto parlando Di quella di Stone Ocean Stone Ocean In questa edizione In questo formato È uscita Ben dieci anni fa Ragazzi Annunciate Jojoion In questo formato Devo andare avanti E completare Jojo Dopodiché troviamo Un titolo Di cui Ultimamente È stata fatta Una variant Del volume numero 1 E Dopodiché Stiamo anche Aspettando Le ristampe Infatti Io vi mostrerò Il numero 1 In variant Ho tutto il resto Ma il numero 1 Lo vorrei anche In edizione regular Se Planet Si degna Di ristamparlo Penso che Abbiate già Immaginato Di che titolo Sto parlando Naturalmente Di Fiori del male Di Shusoshimi Edito da Planet Manga Una storia Veramente pazzesca L'ho recuperata Da non molto Quando è stata annunciata La variant La prima cosa Che ho fatto È andarmi a recuperare Tutta la serie In attesa Di questo primo numero L'ho letta Tutta Di un fiato In realtà Mi mancava All'inizio Il numero 11 Sono arrivato al 10 Ho cercato In qualsiasi modo Di recuperarlo Di leggerlo Alla fine Nonostante sia Negatissimo In inglese E lo sapete Sono andato a leggerlo In inglese Perché avevo La necessità Di scoprire Come si concludeva Questo Questo libro Veramente Veramente fenomenale Ora ragazzi Non avete scuse È uscito anche Il numero 1 Gli altri numeri Più o meno Dovrebbero essere Tutti recuperabili Fatevi un favore Se riuscite E andate a leggerlo Perché merita Veramente tanto Ora passiamo A un titolo Che è una sorta Di manga italiano Possiamo definirlo così Permettetemi Questo termine E sto parlando Di un titolo Che è stato ristampato In un'edizione integrale Lo scorso anno Sto parlando di Somnia Artefici di sogni In edizione omnibus Lo possiamo vedere qua Al prezzo di 25 euro Edito da Planet Manga Un bel titolo Fatto da un'autrice Italiana Con dei bellissimi Disegni Al suo interno Non lo apro Troppo Perché secondo me Vanno a staccarsi Le pagine Ma a parte questo Una lettura Veramente Che ho trovato Molto 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 Piacevole Si va a parlare Di sogni Meccanismi Desideri Che devono essere Esauditi Tramite alcuni oggetti Però è stata Una gran bella lettura Non me l'aspettavo Ogni tanto Voglio dare Un contributo Diciamo Agli autori italiani Che cercano Di farsi largo All'interno Del mondo manga Federica Di Meo Sicuramente Una di quelle Che c'è riuscita Senza Senza dubbio Però questo titolo Mi ha sorpreso In maniera Decisamente Piacevole Il 2013 Ha visto anche Il debutto Di un simile Entai Diciamo Ma veramente Divertentissimo E che vi consiglio Ogni volta che ne parlo Ve lo mostro Magari in qualche Videocollezione Sto parlando di Le mie palle Proteggerò la terra E senza farvi Grossi spoiler Diciamo Vado soltanto a leggergli Quelle due tre battute Che ci sono Dietro il volume Numero uno Se iacula L'umanità Verrà sterminata Sta per iniziare Una battaglia Un po' porcella Perché dovete sapere Che il nostro protagonista Ha la regina Dei demoni All'interno Dei suoi testicoli E quindi non può Eiaculare Altrimenti lei Uscirebbe fuori E distruggerebbe il mondo E questo ragazzi Penso che sia un motivo Già sufficiente Per andare A recuperare Questo titolo È un qualcosa Di eccezionale E divertentissimo Poi abbiamo Anche il debutto Di una serie Che Per quanto riguarda I disegni Io ne ero Innamorato Follemente Peccato però Che proseguendo Poi con la trama Non è stata Secondo me All'altezza Dei disegni Sto parlando Di area D Qua abbiamo Anche la variant Che era uscita Esclusiva Per il sito Pop Store E come potete Vedere Anche voi Da soli I disegni Sono un qualcosa Veramente di Eccezionale Però ripeto Soprattutto Diciamo Dalla metà In avanti Secondo me La storia Non è stata In grado Di reggersi Poi Sulle sue gambe E ha svaccato Abbastanza Quindi Un vero peccato Perché Sarebbe potuto Essere un titolo Molto molto Interessante Passiamo ora A uno degli Shoujo Che tuttora È uno dei più amati In assoluto Planet Sta ristampando I volumi mancanti E Io sono andato Così a Completarla Anche grazie A queste ristampe Sto parlando Di Ao Aruride Ad un passo Da te In questo momento Ho letto Soltanto Il volume numero 1 Però Mi è sembrata Una lettura Veramente interessante Nonostante Sapete benissimo Che Non sono un fan Sfegatato Della categoria Shoujo Però Questo titolo È riuscito A convincermi Già dal primo numero E quindi Ora Con la Ringrazia La ristampa Del volume numero 2 Potrò andare avanti E leggere anche Tutto il resto Della serie Però Sappiate che Anche questo Ha la sua Ai suoi anni Alla sua età Quindi L'assenza Di qualche volume Per un periodo Prolungato E uno studio Sulla ristampa Poteva anche Essere giustificato Andiamo avanti E troviamo C'è stata Un periodo In cui è uscita Una triologia Di Cofanetti Horror Nel 2013 È uscito Uno di questi Cofanetti E sto parlando Di Judge I tre cofanetti Completi Erano Judge Doubt E Secret Componevano poi Diciamo Una sorta di serie Anche se sono Leggermente Scollegati Tra di loro Ma le tematiche Le vanno a toccare Sono sempre le stesse Una sorta di gioco Al massacro Però Questo cofanetto O comunque Il volume numero uno Di Judge È uscito appunto Dieci anni fa Quindi Anche questo Ha i suoi annetti Anche se stiamo parlando Del 2013 Un piccolo richiamo Alle variant Serve Obbligatoriamente Era Fine aprile 2013 Quando GP Manga Tira fuori La variant Di I am a hero No ovviamente Non è questa Questa è la nuova edizione Di J pop Del titolo Però Quando le variant Venivano fatte Con Una Un certo Una certa cadenza Quando O comunque Per celebrare Qualcosa Ebbene Nel 2013 Era stato scelto Questo titolo Da GP Manga La casa editrice Che deteneva I diritti All'epoca Per celebrare Questo titolo Ed era stata portata Appunto Al comicon di Napoli Nella fiera campana Ed era un'esclusiva Di quella fiera Altro titolo Che J pop Ha riportato Lo scorso anno Con una nuova edizione E che però Era già uscito Nel 2013 In questo caso Edito da Flashbook È Alice in Borderland In questa nuova edizione Fatta da J pop Veramente molto godibile Una lettura Che mi sta piacendo Veramente tanto Di quest'ultimo periodo E leggo veramente Con molto Molto Piacere Altro titolo Che ha fatto Il suo debutto Nel 2013 È Prison School Io l'ho venduta Questa serie L'avevo comunque letta Non mi aveva entusiasmato Soprattutto la seconda parte So che molto di voi In questo momento Mi oglieranno a morte Però Ho venduto tutta la serie In blocco Una volta che l'avevo completata Però Quest'anno Festeggia lo stesso I dieci anni di pubblicazione Per quanto riguarda Prison School Comunque diciamo Che la parte animata È quella che preferisco Che sono In realtà I primi Sette Otto volumi Poi Un'altra serie Che non ha fatto Su debutto assoluto In Italia Ma bensì L'edizione più commercializzata Almeno fino a Qualche anno fa È Devilman Devilman Prima che uscisse L'omnibus È uscito Ovviamente Il cofanetto Quello con i cinque volumi Che tutti conosciamo Definito Ultimate E Quel cofanetto Quell'edizione È stata senza Ombrai dubbio Prima appunto Dell'uscita dell'omnibus L'unica versione disponibile La versione comunque Più apprezzata E più acquistata In assoluto Di uno dei capolavori Non di Gonagai Ma di tutto Il manga In generale Senza Penso che nessuno Abbia qualcosa Da ridire In questa frase Devilman Valetto Devilman È un pezzo Di storia Dei manga Devilman è Attualissimo Ancora oggi Devilman è Uno dei manga Che bisogna Avere in collezione Senza ombra In dubbio E passando Da un capolavoro Ad un altro Nel 2013 È uscito anche Sanni Di Matsumoto Storia in sei volumi Una storia Di dei bambini Che si trovano All'interno Di un orfanotrofio Quindi senza genitori O comunque Abbandonati dai genitori All'interno di questa struttura E che riesce comunque Ad entrarti Nel cuore A farti provare Delle fortissime emozioni E probabilmente Anche a farti entrare In empatia Con questi ragazzi E cercare di provare Diciamo le stesse emozioni Che provano loro Nel corso Della loro Quotidianità Ora ragazzi In realtà Le serie Che sono anche In mio possesso Uscite dieci anni fa Sono concluse Ma questo Non toglie Che ce ne siano Altre di veramente Interessanti E partiamo Da Kamisama Kiss Di cui abbiamo Appena visto Una nuova riedizione Che ci ha portato Star Comics Oppure abbiamo Bastard Nella sua Complete Edition Edita da Planet Manga Un titolo che Probabilmente Non voglio tirarla Ma non vedrà mai La fine Credo che si possa dire Abbiamo Old Boy Un titolo che invece È nella lista Dei recuperi Che voglio fare Nel corso di quest'anno E sicuramente Lo vedrete Nel giro di Non molto tempo Secondo me Andrò a recuperarlo E tra le priorità Tra le cose Che voglio andare A recuperare C'è Tiger e Bunny Edito da Planet Di cui ho visto Almeno in parte L'anime Mia moglie Ne va Veramente pazza Ha visto Tutte le puntate Che sono uscite E le è piaciuto Veramente Veramente molto Ma non sono Così convinto Che in versione cartacea Possa rendere Allo stesso modo Della versione animata Almeno per quanto Riguarda questo titolo Abbiamo Shaman King Zero Quindi delle storie Autoconclusive Che vanno A raccontarci Un pochettino meglio Quelle che sono State le vite Dei protagonisti Shaman King Troviamo Alita Last Order Uno dei vari titoli Che sono stati fatti Su un titolo Veramente Che ha quasi Segnato La storia Del manga E abbiamo Anche due Concludo Con due artbook Ovvero Quello di Soliter Chiamato Solart E anche Fantasia Che se non Non vorrei dire Una cavolata Ma se non sbaglio È la Il primo artbook Dedicato a Fairy Tail Arrivato anche Qua da noi in Italia Un Un paio di dimensioni speciali Che mi sono dimenticato prima Sono sicuramente per Puro Cosno Basket E Tool of Rue Darkness Anche questi due titoli Sono usciti nel lontano 2013 Ragazzi Io qua Concludo questo video Questo viaggio Nei ricordi Possiamo definirlo così Fatemi sapere Quali serie Avete voi Fra tutte quelle Che abbiamo menzionato Quali serie Non avete Ma che sperate Siano ristampate Sperate che Venga fatta Una nuova edizione Avete Nella lista Dei recuperi Perché Attualmente Disponibile Come ho io Oldboy E tutto quello Che mi volete scrivere Lasciatelo ovviamente Qua sotto Nei commenti Io vi mando Un abbraccio grandissimo Vi ringrazio di cuore Per aver guardato Questo video Vi chiedo soltanto Un like E un'iscrizione al canale Per voi Un gesto Completamente gratuito Per me Il supporto più grande Che vi possiate dare Io vi auguro Una buona serata E noi ci sentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti